perché è importante l'attività fisica perché oltre a essere una attività ricreativa che ci fa divertire e solleva il nostro animo allontana anche il rischio degli eventi cardiovascolari e questo nel soggetto sano e nel soggetto portatore di fattori di rischio i soggetti con fattori di rischio sono i pazienti ipertesi pazienti diabetici quelli con il colesterolo aumentato e gli obesi si è visto che un'attività fisica strutturata in questi soggetti può effettivamente ridurre il rischio cardiovascolare quindi ci chiediamo ma quanta e quale attività fisica io debba fare l'attività fisica deve essere distribuita nell'arco della settimana con 30 minuti almeno al giorno quindi 150 minuti alla settimana è l'attività che viene consigliata nei soggetti con rischio cardiovascolare quale attività fisica l'attività fisica è che è stata studiata in diverse trial scientifici sono state attività che mettono sollecitano il cuore a lavorare a una frequenza più alta in modo da allenarlo quindi si parla di high intensity interval training che è una tecnica di allenamento che permette di mantenere la frequenza cardiaca a livelli abbastanza alti per far sì che il cuore si alleni e questo è stato provato sia nei pazienti sani che hanno ridotto il loro rischio cardiovascolare che nei pazienti che avevano già avuto un evento coronarico nei quali addirittura ha dimostrato di ridurre il volume della placca aterosclerotica c'è anche chi dice ma io con la mia situazione articolare non posso fare attività fisica in realtà esistono delle tecniche di allenamento e che permettono di allenare se così vogliamo dire anche soggetti che hanno problematiche di questo tipo per esempio il pilates il pilates è stato studiato in pazienti affetti da patologie aromatologiche negli obesi e si è visto che oltre ad alleviare i sintomi e quindi dolori articolari porta anche a una riduzione del peso a una riduzione dell'indice di massa corporea e a una riduzione della circonferenza addominale quindi l'attività fisica può essere sicuramente uno strumento che ci permette di allontanare il rischio cardiovascolare e quindi il mio suggerimento è metti in moto il tuo futuro